Bentornati a tutti quanti sul canale di Bufferratus per il vostro Jason Allora ragazzi, finalmente vi porto alle sensibili di Beatles, Beatles, film diretto da Tim Burton Sequel fuori tempo massimo delle Beatles, degli anni 80 E di alto punto da Tim Burton Ritorna Michael Keaton nei panni di Beatles, ritorna il personaggio di Winona Ryder, ovvero Lydia Diaz E se è il personaggio di Katie O'Hara, che anche mi è piaciuto moltissimo, che torna E tra le nuove intro abbiamo anche Zen Ortega, che interpreta la figlia di Lydia Astrid E ovviamente Willem Dafoe, che interpreta questo detective polisciotto dall'aldilà che mi ha fatto morire E abbiamo Monica Bellussi, che interpreta Delores, la ex moglie di Beatles Il film ragazzi mi ha soddisfatto dall'inizio alla fine Abbiamo dei ritorni tematici originali di Beatles Canzoni straordinarie, che ho messo in momenti in cui ho avuto proprio La sensazione che si stessero prendendo per il culo, infatti è così Perché sono i momenti in cui sono queste canzoni messe a caso, che ti fanno morire da ridere C'è una sequenza del matrimonio che è una cosa allussinante E poi abbiamo il personaggio di Monica Bellussi, che non è che fosse granché Per seguito a Beatles, perché lo rivuole, scopriamo tramite dei flashback il perché Ovviamente non farò spoiler perché il film è per un sito, quindi per chi non l'avesse ancora visto Non preoccupatevi, continuate con questo video Il personaggio di Delores mi piace soltanto, fa questa intro bellissima con questa canzone Che vediamo anche nel trailer, stupenda La messa in scena con cui arriva Delores è fantastica E ti fa capire anche quanto lì sia stronza e cattiva Per Zaza Bellussi lì sei in tutto il film in due parole contate Però comunque fa il suo Cammina ogni tanto se soffia l'anima di qualche spettro o di qualche fantasma Insomma, è un film che non si prende per niente sul serio Come esattamente era il primo Beatles Sono delle sequenze anche molto horror, molto più horror del primo Che però sono tutte grottesche, fatte con i pupassoni, animatronics Infatti Michael Keaton, davanti all'intervista, ha detto Tim Barto, io torno a fare Beatles, però Dobbiamo tornare e usare gli effetti pratici e gli animatronics Non voglio CGI Infatti mi pare che in questo film CGI non se ne sia Anche perché sembra tutto fatto pupassoso, animatronics Che è il personaggio di Bob, questo mostro grosso Con la testa rimpissolita Situazione del primo Beatles E quando si rimpissoliva la testa appunto Beatles Che mi ha fatto morire da ridere Bob è uno delle creature del regno allo sotto sopra Che mi sono piaciuto, scusatesi Del regno dell'aldilà che mi è piaciuto ripetere tutte Poi abbiamo il personaggio di Will and the Faw Che è un personaggio sicuramente interessante Ben scritto, fa anche molto ridere E Astrid è sempre il seno Ortega Zena Ortega dove la metti fa sempre il personaggio La ragassa forte, determinata Cos'era mercoledì, cos'era anche il suo personaggio di Tara Nei due screen, screen 5 e screen 6 Quindi molto determinata, non ha paura di niente Quindi secondo me va benissimo così Mi è piaciuto anche il conflitto tra lei e la madre Che è stato ben scritto secondo me Ti danno anche delle motivazioni utili Tu direi banali, sì Però comunque sono motivazioni che servono Perché se queste qua litigano tutti per due C'è qualcosa che non quadra E mi piace anche il rapporto Che si viene spiegato delle morti In questo film diciamo che racconta la tragedia dell'aldilà In maniera molto più esplicita Tim Burton Mi è piaciuto per quello Raccontano l'aldilà in maniera molto interessante Poi ci sono diversi i punti Il treno che deve andare nell'oltretomba Definitivo L'anima che si scambia Uno che può uscire dalla terra dei morti E l'altro che dalla terra dei vivi Può entrare nel regno dei morti Insomma ci sono tante sfumature Dell'aldilà che Tim Burton si vuole raccontare in questo film E io ragazzi Tantissimo che non vedevo Tim Burton così Un Tim Burton che finalmente torna a fare quello che doveva fare Un film grottesco Che fasse a ridere Che non si prenda per niente sul serio Perché comunque tutto quello che accade Non ha minimo di senso però Non è che non ha senso Ha senso quello che accade a livello di scrittura Torna tutto anche Ma non ha senso Non ha senso il film in sé E' una commedia horror demenziale Con elementi grotteschi Che ti devono far ridere Può essere sta cosa del bambino Se è un bambino in particolare Che non so spoilerarvi Che mi ha fatto venire del macabre Ovviamente quella sequenza col bambino E' una roba horror Allo stato pure Tim Burton ha seguito tantissimo Tantissimo quella sequenza lì secondo me Quindi quando vedrete il bambino Non è nato capirete di cosa sto parlando Insomma è un film che non lo reputo A livelli del primo Però comunque ha delle trovate interessanti Ha delle trovate interessanti Delle canzoni belle E soprattutto Un cast che porta rispetto a Tim Burton E che comunque Si ha dato tanto impegno in questo film Michael Keaton Sede che era proprio contento di tornare a fare Beatles Non credo che sia tornato a fare il personaggio Perché Tim Burton gli ha detto Infatti comunque La parola di Tim Burton è stata mantenuta Abbiamo esatto effetti pratici Se sei un video da CGI Proprio minima minima Forse in una cena Lo vista Ma basta Il resto è tutto make up Costumi Perché li vedete che sono dei pupassoni Gli spetteri sono dei pupassoni Li vedete che sono dei pupassi O sente comunque in costume Quindi Per me E' un film comunque che va bene Per me un 8 solo merita Tranquillamente Mi sono divertito E' un film divertentissimo Con un bel ritmo Un'ora e 40 Che è volata Volevo Volevo di più in realtà Volevo un Beatles Un po' più lunghetto Però va bene così Va bene così Perché comunque Non cade mai nel ripetitivo Sai anche il personaggio di Ligia Di Winona Ryder Che è tormentata La Beatles Da quando è successo Del primo film Che lo vede Di qua Di destra e sinistra Per me E' bello Tutti i personaggi Sono stati caratterizzati Tutti i personaggi In uno scopo Tutti i personaggi In un ruolo prioritario E' bello E' bello Nessuno ha messo in secondo piano Ripeto La Bellucci Compare in due sene Due, tre sene Non di più Però comunque Mi è piaciuta anche lei Fatemi sapere Nel sotto Pensate di Beatles Se l'avete visto E noi siamo al prossimo video Mi raccomando Non dite questo nome tre volte Se non arriva Beatles Ciao a tutti L'ho appena detto